Grazie a tutti. Ci ha parlato dei disastri delle grandi opere, dopo aver sentito l'amico Vezio De Lucia sul disastro dei beni culturali e dopo aver sentito Francesco Pagné sul prossimo trattato transatlantico, e io credo che nella mente di tutti c'è una domanda, ma in che mondo stiamo vivendo? Perché sta succedendo tutto questo? Effettivamente dal mio punto di vista siamo in un momento di cambiamento epocale. 10.000 anni fa l'uomo branco decise di diventare uomo civile, fondando la città, la Civitas. Capì che anziché combattersi e vivere solo di caccia, conveniva invece vivere insieme, coltivare i campi e vivere entro determinate mura. Adesso sta succedendo l'inverso. Abbiamo la cosiddetta globalizzazione, che non è affatto, come dice Stiglitz, un premio Nobel per l'economia, un fatto positivo, ma un fatto negativo, anche perché è stata intesa la globalizzazione non come transitabilità dei confini, e quindi stabilire che le persone, le merce e i capitali possono passare da un luogo all'altro, ma è stata intesa come abolizione dei confini, abolizione degli stati, abolizione dei popoli, abolizione dei territori, unificazione di tutto in uno spazio libero nel quale domina la finanza. Allora credo che sia necessario fare il punto su questa situazione. Guardate che nell'immaginario collettivo si è ormai radicato, a seguito di un'attenta, continua, pervicace operazione dei media, dei potentati economici, che si è radicato nell'idea di tutti l'idea del neoliberismo economico, cioè a dire che quello che domina senza regole e che impone regole è il mercato. Ci rendiamo conto che questa formulazione implica un modo di vivere, una concezione della vita completamente opposta a quella di 10.000 anni fa, completamente opposta a quella della vita civile. e tenete presente, questo è possibile nella visuale di una società, il mercato, nella quale non esiste solidarietà, perché l'unica società nella quale non esiste solidarietà, anche nelle società criminali c'è bisogno di solidarietà, è proprio il mercato, dove ognuno fa quello che più gli conviene. Quello che più gli conviene. Quindi cominciamoci a chiarire in mente che noi ci troviamo in un momento di passaggio epocale, nel quale, a causa di certe idee, noi stiamo ritornando indietro di 10.000 anni. E l'obiettivo finale di questa operazione, che è un'operazione meditata a livello universale, è che essendo la terra troppo piccola per contenere 7 miliardi e 300 mila abitanti, conviene che i più potenti si salvino e che gli altri muoiano. L'obiettivo non è un obiettivo di partitico, di politico, è un obiettivo fortemente egoistico che utilizza il mercato per realizzarsi. E se noi guardiamo anche quello che sta accadendo in Italia, ci rendiamo conto che ci stanno portando alla rovina. Voglio andare per gradi, cerco di essere rapido e di fare dei flash su dei concetti fondamentali. Sappiamo, come ci dice Kant, che tutto parte dal pensiero umano, la forza del pensiero. Il pensiero neoliberista che cos'è? E' un pensiero che già era noto, era forte negli anni 30, si chiama neoliberista perché dopo il fallimento dell'ASFR, che era liberismo, e questi risentirono, questi autori, Hayek, Friedman e via dicendo, la scuola di Chicago, la scuola di Vienna, la scuola austriaca, questi signori pensarono che sarebbe stato meglio cambiare il nome, come facciamo di solito noi, e quindi si chiamarono neoliberisti. Il pensiero neoliberista consiste nel fatto che la ricchezza deve accentrarsi nelle mani di pochi, nel fatto che l'uomo non deve essere considerato in tutte le sue attività materiali e spirituali, ma deve essere considerato come un autoimprenditore. Quello che conta nella sostanza non è la formazione umana, lo sviluppo della persona umana, l'arte, la religione, la filosofia, quello che conta è il danaro. Quindi ci troviamo di fronte a una scelta tra l'umanitas, lo sviluppo della persona umana, che è il fondamento delle costituzioni repubblicane successive alla Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto della nostra impareggiabile Costituzione Repubblicana, è il danaro. San Matteo dice, e questa cosa me la sono imparata in greco quando ero in quarta cinesiale, non è possibile servire due padroni, Dio e Danaro. Adesso noi siamo passati da un modello che era quello della civitas, c'è della solidarietà, del vivere insieme, che si esprime poi nei principi che sono quelli dell'etica repubblicana, presi dall'illuminismo, tramutati nella società borghese della rivoluzione francese, è pervenuta poi in termini generali della nostra Costituzione, che sono libertà, eguaglianza e solidarietà. È solo sulla base di questi tre principi fondamentali che si può essere un vivere civile. Questo altro pensiero, il pensiero neoliberista, vuole solo la libertà per pochi. Cancella la solidarietà, cancella l'eguaglianza. Quindi noi ci troviamo di fronte a un modello di vita assolutamente inaccettabile, anche perché, come diceva Don Abbondio, ne va della vita. Quindi il problema è veramente serio. Riassumo il pensiero neoliberista. Il pensiero neoliberista vuole l'uomo autoimprenditore. Tutto deve essere mercificato. La mercificazione di tutto. La mercificazione anche del futuro, quando si è finito di mercificare tutto, i beni demaniali e beni... Vuole la concorrenza, che nel Trattato di Lisbona viene chiamata la forte competitività. Regimi di concorrenza. Regimi di concorrenza, la globalizzazione. In modo che tutto vada su un mercato unico, è il più forte, ma anche il più piccolo. È vietato aiutare più il debole. Il debole deve morire sul piano economico. Queste sono le regole americane degli Stati Uniti, che sono la base del Trattato transatlantico, che molto brillantemente vi ha illustrato l'amico Francesco. Spero di essere chiaro e di avervi dato l'idea di cos'è il pensiero neoliberista. Al pensiero neoliberista si oppone il pensiero di Keynes, che poi era anche un borghese britannico, ma che comunque diceva le cose giuste. Keynes, che era un vero economista, mette in primo piano l'essenza dell'economia. L'essenza dell'economia sta nella circolazione della moneta. Per questo la moneta è fatta tonda, perché deve circolare. Non nell'assorbimento della ricchezza da parte di pochi, delle monete nelle mani di pochi. E la circolazione della moneta si ottiene distribuendo la moneta attraverso un intervento statale di ampio respiro, e quindi la necessità dell'intervento dello Stato, che viene negato anche in sede europea. Quindi per me sarebbe una grande opera pubblica di risanamento dell'equilibrio idrogeologico d'Italia, da fare 20 miliardi all'anno per 20 anni, anziché tenerli separati, come dice il fiscal compact, e questo risolverebbe la crisi. Risolverebbe la crisi ambientale e la crisi economica. Perché guardate che crisi, nella situazione in cui siamo, crisi economiche e crisi ambientali, sono due facce della stessa medaglia. Perché è la finanza che provoca la crisi ambientale. Tutte le leggi che vengono passate, volevo dirti che, volevo dire anche a De Lucia Vezio, ho sentito ieri per televisione così di sfuggita che hanno cancellato quella norma della legge di stabilità che impediva ai comuni di utilizzare per spese correnti gli oneri urbanistici. Quindi siamo tornati all'utilizzo diretto degli oneri urbanistici. Questa la dice lunga, come i nostri parlamentari sono pronti a far passare delle cose che giovano le multinazionali, i palazzinari, e sono a danno della collettività. Oggi siamo nell'assurdo che il politico si è asservito talmente alla finanza che le leggi che ha fatto Renzi sono tutte contro di noi e a favore della finanza. Questa è una cosa che i fatti non possono negare. Ma comunque non scantoniamo dall'ordine di te che deve essere molto chiaro per l'obiettivo che mi sono proposto questa sera. E non sarò a lungo, assolutamente non sarò a lungo. Dunque, dicevo che alla teoria del neoliberismo si oppone la teoria keynesiana. Secondo Keynes non bisogna partire dalla fine del ciclo economico come fa Draghi che distribuisce danaro a non finire alle banche e poi dà un premio alle banche se le banche investono. Ma le banche quando hanno avuto i soldi i loro obiettivi erano i soldi, si mettono in tasca e se la tengono. Come già abbiamo sperimentato. Ma i soldi vanno dati ai lavoratori perché i lavoratori vanno ai negozi, i negozi vanno alle imprese, le imprese assumono e fanno prodotti reali. Invece noi adesso non facciamo più prodotti reali ma facciamo prodotti fittizi, prodotti fittizi, i prodotti finanziari, i prodotti finanziari. Ora, detto questo sul piano della ideologia neoliberista, detto questo su Keynes e sui neoliberisti, io vorrei sottolineare che è in fermento, sta venendo fuori anche un pensiero critico alternativo. Non è più assolutamente il pensiero neoliberista, il pensiero unico dominante. Si sono mosse dei grandi personaggi. Innanzitutto Papa Francesco. Papa Francesco, nell'enciclica meravigliosa, laudato sì, ha detto che l'ambiente appartiene a tutti gli uomini. Ha detto che la nostra bella madre terra è stata maltrattata dall'egoismo del cuore umano ferito dal peccato. Ha detto che noi siamo parte della natura e l'uomo è parte della natura, concetto essenziale che vado predicando da 40 anni, finalmente ho trovato chi mi dà ragione. L'uomo è parte della natura e noi abbiamo doveri inderogabili verso Dio, verso il prossimo, verso la natura, ed è la prima volta che la Chiesa lo dice, verso la natura e verso noi stessi, in questo preciso ordine. Abbiamo, cito qualcosa, Stiglitz, ve l'ho detto sulla globalizzazione, faccio il nome, tanto per andare veloce, di Serge Latouche, che parla della decrescita, decrescita non nel senso che dobbiamo crescere meno, ma nel senso che dobbiamo crescere ordinatamente, cioè che gli investimenti, come fa Banca Etica, tu ci hai dato Banca Etica, come fa Banca Etica, gli investimenti vanno fatti nella direzione giusta, non per soddisfare bisogni strani, ma vanno investiti per soddisfare bisogni primari in modo da rendere molto utile la risorsa che si utilizza, perché se noi andiamo incontri a bisogni molto intensi, il riflesso, secondo la scuola viennese che ho citato prima, è proprio quello di un aumento di utilità del bene, tanto più utile il bene, quanto più soddisfa bisogni intensi, bisogno della fame, della sete, del vestire, dei piedi centri, quindi quando si parla di decrescita, che non ci siano interpretazioni errate o dubbi, decrescita non significa che dobbiamo rinunciare, bisogna indirizzare le risorse sulla linea giusta, anche perché le risorse, come sappiamo, sono scarse, ed è una menzogna, dice Papa Francesco, dire che può esistere un'economia illimitata, come dicono i neoliberisti, non ci può esistere un'economia illimitata, una crescita illimitata, se il mondo è finito, il mondo è finito è uno, e gli abitanti sono 7 miliardi e 300 mila, quindi insomma non può esistere una cosa niente. Detto questo, e sul piano ideologico, vorrei dirvi che allora, gli operatori economici e finanziari, che sono delle persone, io non voglio dar torta a nessuno, insomma, delle persone che, stavo dicendo una brutta parola, che a me fanno un ribrezzo, mi stava venendo di me, però non voglio offendere nessuno, Papa Francesco mi bicchierebbe, se sentisse questo, sono delle persone che non vedono, al di là del proprio naso, diciamo così, sono persone un po' egoiste, sono persone un po' egoiste, questa finanza, che è costituita dalle banche, dalle grandi banche, mettete sopra la Rothschild, la Golden Sachs, la J.P. Morgan, dalle quali dipendono, sono 12 banche americane, che sono ai vertici, dalle quali dipendono direttamente, 600 mila banche, poi mettete anche, le banche europee, la BCE, la quale contiene 18 banche, sono tutte private, sono tutte private, metteteci anche il Fondo Monetario Internazionale, tutte banche, tutte banche private, e questo è il forte della situazione, mentre un tempo, nel mercato, erano rappresentati, anche interessi collettivi, di popoli, cioè di enti pubblici economici, adesso in mercato, sono rappresentati, soltanto degli interessi individuali, e questi interessi individuali, che poi, detti in termini, si chiamano le lobby, riescono a prevalere, sugli interessi generali, della collettività, asservendo i politici, e utilizzando il diritto, che è proprio, delle collettività, e proprio degli stati nazionali, proprio il diritto, degli stati nazionali, contro le collettività, e a favore loro, e tenete presente, che insomma, delle armi, poi ce le abbiamo anche noi, quindi, la conclusione del mio discorso, va nel senso, che un giudice, lo troveremo, insomma, non, la ratifica del TTP, va impugnata, come va impugnata, la ratifica, anche, sarebbe stata da impugnare, quella fatta con, col VTO, VTO, ecco, il VTO, l'organizzazione, l'organizzazione del commercio, prevede quello che diceva Francesco, poco prima, prevede che, nel caso di contrasto, dei singoli con gli stati, decide un arbitro, nominato, dagli operatori economici, e l'Europa è stata condannata, l'Europa è stata condannata, a pagare, agli Stati Uniti, per il commercio di carne e bovina, di carne e bovina, con ormoni, trattati con ormoni, e quindi cancerogena, mi pare, 256 mila lire, 256 mila euro all'anno, non so per quanti anni, mi pare, per un complesso, non so ben i numeri, mi pare, 4.800 trilioni di dollari, e allora, l'Europa ha pensato bene, di cancellare questo regolamento, e ci fa mangiare a tutti, carne cancerogena, quindi, questo è un discorso, è un discorso, e già siamo in questo stato, già c'è, questo ricorso agli arbitri, quindi la finanza sa fare bene, comunque adesso, vediamo che cosa si è inventata la finanza, la finanza a un certo punto, si è resa conto, che con la concorrenza cinese, con la saturazione dei mercati, c'era qualcosa che non poteva andare troppo, comunque ha cominciato la mercificazione di tutto, e un grande esponente della mercificazione di tutto in Italia, è stato Berlusconi, il quale con un non noto, poco noto, decreto legislativo numero 85 del 2010, che forse è noto sotto il nome di federalismo demaniale, ha pensato bene di mercificare quello che era una volta non mercificabile, che era fuori commercio, cioè i demani, i demani sono beni fuori commercio, secondo la grande distinzione di Gaio, del diritto romano, tra res in commercio e res extra commercium, veramente Gaio dice, res in patrimonio e res extra patrimonium, insomma, è la stessa cosa, diciamo in commercio e fuori commercio, Berlusconi con questo decreto, insieme a Bossi, e Bossi se ne è gloriato, abbiamo riavuto le nostre montagne, eccetera, ha detto che si possono vendere i beni demaniali, il demanio idrico, il demanio marittimo, il demanio minerario, il demanio culturale, e qui ti interessa molto il demanio culturale, sono trasferiti alle regioni, ed è stato fatto il trasferimento alle regioni, le regioni li valorizzano, e li possono vendere a privati, così c'è stato, e tant'è vero che gli immobili, molte leggi Berlusconi, sulla cartolarizzazione della vendita degli immobili, sono previste le vendite anche di, e sono stati venduti, come a Roma è stato venduto, per esempio il palazzo della Zecca, Piazza Verdi, grande monumento, venduto per pochi euro, a due società americane, che ci stanno facendo un albergo, se passate a Piazza Verdi, vedete che ci stanno facendo un albergo, e il nostro caro sindaco Alemanno, ha pensato bene di vendere anche, per 16 milioni di euro, quindi una cifra limitatissima, a Casina Valladie del Pincio, cui sentimentalmente tutti i romani, o quasi tutti, sono fortemente legati. E' stato venduto, o in vendita ancora, il Monte Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo, sempre sopra Cortina d'Ampezzo, il Monte delle Tofane, sono stati venduti, già ampi tratti di costa, sono stati vendute le isole della Laguna Veneta, è stata venduta all'isola Budelli della Maddalena, che però per opera di un maestro, pare che si stia riconquistando, perché l'avevano venduto per 3 milioni di euro, quindi quella pare che ritorni indietro, ma comunque, insomma, il principio è inaccettabile, i beni demaniali sono tali, perché sono inalienabili, inuso capibili e inespropriabili. L'ignoranza dei nostri legislatori ha fatto in modo che bene demaniale equivalesse a bene alienabile, quindi non più bene del popolo, proprietà diretta del popolo, ma bene che è nelle mani del governo il quale può vendere e può fare quello che vuole. Quindi questa è la prima cosa assolutamente... Ma poi, dopo aver... Anche le spiagge, è il demanio marittimo, le spiagge sono... E ampi tratti di spiagge sono stati venduti a privati e sono inaccessibili a tutti, sono di proprietà privata. Quindi, primo passo... Poi, scusate, no, no, fatemi finire, perché vi lascio spazio poi per intervenire, perché voglio essere rapido e dare questi concetti molto forti. Dicevo, ideologia neoliberista, attuazione da parte della finanza, mercificazione di tutto, quindi, prima cosa, mercificazione dei beni demaniali. Ci siamo? Adesso sono tutti beni economici e quindi tutti beni commerciabili. A un certo punto si è accorta la finanza che non bastava. Allora che cosa ha pensato di fare? Ha cominciato a vendere il futuro. Il futuro. Come? Attraverso le cartolarizzazioni e i derivati. Cosa sono le cartolarizzazioni? Le cartolarizzazioni, lo dice la parola, sono dei crediti e, dall'altra parte, dei debiti che vengono, che sono trasformati in titoli commerciabili e messi sul mercato. Questa è una grave violazione dei principi fondamentali del diritto civile, del codice civile e della Costituzione. Questa è una legge italiana numero 130 del 1999. E' meglio che non dico i nomi, chi vuole se lo vado a cercare. E' una legge criminale. Una legge che era stata impedita dai redattori del codice civile quando si erano occupati della cambiale. si volle evitare da parte dei redattori del nostro codice civile, quindi sotto lo statuto albertino che protegge solo i beni o non protegge l'uomo come invece la Costituzione Repubblicana, per evitare che la cambiale circolassi come moneta, cioè il fenomeno proprio delle cartolarizzazioni, si disse che la cambiale potrebbe essere di due tipi. Al portatore, cioè lo scambio di uno contro uno a un altro o al nominativo con la girata. Così si evitava che girassi come moneta. Invece questa bella legge criminale italiana numero 130 del 99 cosa dice? Dice che se la banca dà un prestito e quel prestito lo può trasformare immediatamente in un titolo commerciabile, metterlo sul mercato e venderlo sul mercato. Quindi si libera del debito a venduta e ne fa un'altra e ne fa un'altra e ne fa un'altra. E così si sono creati moltissimi debiti che valgono come se fossero azioni. Ecco, cioè valori negativi sono diventati valori positivi. Poi sono venuti fuori i derivati. I derivati sono delle cose complicatissime che sono fondate su questo principio. Cioè hanno un rapporto sottostante. Cioè dire l'origine del derivato è un'origine giusta. Viene dall'agricoltura dell'Ottocento. L'agricoltore che vendeva in anticipo a dicembre il proprio raccolto di giugno di grano e diceva a un altro io tu mi dai mille lire e io ti do tutto il raccolto del grano. Quindi come dire c'era un cangio con la realtà. Cioè a dire ci sarebbe stato il raccolto e il contadino avrebbe dato il raccolto che poteva essere maggiore o minore di quello stabilito quindi una certa alea e il venditore e il compratore avrebbe dato mille lire. Cosa è successo? Che con leggi del periodo berlusconiano è stato stabilito che non c'è bisogno del sottostante. Io posso mettere qualsiasi condizione se vince la Roma contro la Lazio allora tu prendi la somma di denaro che è stato oggetto del derivato se perde no. Insomma siamo arrivati a trasformare la borsa in una bisca e questo l'ha detto espressamente anche Tremonti quindi insomma come dire sono sostenuto da persone insospettabili sotto questo profilo ben inteso a questo punto noi abbiamo una massa enorme chiamiamolo così di denaro fittizio perché i derivati e le cartolarizzazioni e Berlusconi ha pensato anche alla cartolarizzazione degli immobili da vendere dove c'è tutto un procedimento con la società a veicolo non vi sto a dire insomma più o meno avete capito di che si tratta cioè a dire il nulla diventa un valore che circola in banca come se fosse moneta questo è un inganno è una menzogna è una cosa gravissima adesso vi do un dato veramente impressionante il dato preciso statistico è questo che l'ammontare complessivo globale dei titoli di questo tipo cioè derivati e cartolarizzazione è 1,2 quadrilioni di dollari che supera di 20 volte il PIL di tutti gli stati del mondo allora pensate bene che nel mercato che è diventato è diventato il mercato come se fosse la nostra casa non più ecco la nostra patria è diventata il mercato non c'è più l'Italia c'è il mercato nel mercato comandano quelle che hanno più titoli quelle che hanno più voti e chi è che ha più voti quelle che ha più titoli fittizi in mano e con quei titoli fittizi vota e stabilisce il livello dei prezzi il livello del cambio dei campi delle monete e gli interessi da pagare per cui noi abbiamo un debito pubblico enorme non perché come dice la brava casalinga Sveva Merkel noi abbiamo sciupato non abbiamo speso bene i soldi che ci ha dato il nostro marito ma abbiamo speso troppo questa è una menzogna perché noi il nostro debito pubblico è stato causato unicamente dal mercato che ha avuto fiducia della Germania sfiducia in noi e ci ha fatto pagare degli altissimi tassi di interesse se voi vedete i modelli campanulari statistici vi rendete conto che da cracks in poi c'è uno spicco fortissimo di aumento dei prezzi e l'aumento dei tassi è stato dovuto poi in parte in parte era arrivato al 25% anche proprio per il pagamento della riunificazione tedesca quando Kohl decise che bisognava considerare il marco dell'est alla pari del marco dell'ovest uno euro uno marco invece era un rapporto di nove a uno allora fu costretto a porre degli altissimi tassi di interesse per evitare l'inflazione di quella Germania e ne subimmo noi le conseguenze che dovremmo uscire insieme con l'Inghilterra dal serpentone da noi era arrivata al 25% i tassi di interesse quindi quello che il nostro debito non è dovuto allo spreco nostro ma è il debito che ci ha collato il mercato questo grande giudice in questa grande casa dove ci stanno tutti quelli che determinano la nostra condizione di vita stiamoci attenti che a questo punto il meccanismo studiato dalla finanza è ancora più raffinato perché tutti questi finanzieri queste grandi banche che hanno questo denaro fittizio hanno bisogno di trasformare questo denaro fittizio in beni reali allora che cosa si fa? si dice che molto bene è fare le liberalizzazioni il nostro Bersani nel 2007 ha fatto le liberalizzazioni le quali che cosa sono servite? a far fallire le piccole imprese familiari che campavano di quella e a far venire le multinazionali degli ipermercati dei supermercati non si può accettare non si può accettare una cosa del genere ma la cosa più impressionante cui hanno fatto riferimento sia Francesco sia Vezio è il fatto delle privatizzazioni le privatizzazioni sono una cosa micidiale micidiale privatizzare le banche pubbliche governo Andreotti Giuliano Amato ministro del tesoro a 1990 le banche pubbliche italiane diventano banche private vendute per pochi soldi poi c'è un avvenimento incredibile sulla nave Britannia il 2 giugno del 1992 salgano insieme ospiti della regina Elisabetta che serve lei stessa in un piatto d'argento il tè alle ore 5 al 5 o'clock personaggi come Prodi come Draghi forse anche Amato non è documentato Soros e cento delegati della City di Londra e stabiliscono sulla nave Britannia di privatizzare gli enti pubblici economici italiani e con decreto legge il governo Amato del 1992 con decreto legge privatizza l'Eni l'Iri l'Ina e l'Enel poi di corsa di seguito privatizzazione superizzazione insomma noi abbiamo perso tutti gli enti pubblici economici questo è gravissimo perché se si privatizza se si privatizza e questo lo sta facendo anche Renzi per le banche popolari se si privatizza un qualcosa che ha un legame con il territorio se si taglia il rapporto tra il fattore di produttivo è il territorio e lo si fa privato lo si intesta privato il quale gira per il mondo e quel bene va girando per il mondo come andato girando la Fiat che era privata la Fiat l'abbiamo costruita noi l'abbiamo costruita noi la Fiat e per tanti anni tutto il governo democristiano i governi socialisti è stata fortemente pagata dal popolo italiano è arrivato questo signore che prende da manager non so quanti soldi al mese e questo l'ha portata prima in America poi in Olanda pagando le tasse in Inghilterra e licenziando gli operai in Italia quindi vedete che noi dobbiamo stare attenti noi nel mercato aperto dobbiamo esportare i prodotti ma non i fattori della produzione se noi vendiamo le industrie se noi vendiamo i terreni se noi vendiamo le spiagge se noi vendiamo tutto il territorio italiano ci impoveriamo definitivamente e facciamo la fine degli ebrei sotto la scavitù di Babilonia cioè siamo un popolo senza territorio quindi stiamoci molto attenti sulle privatizzazioni le privatizzazioni sono micidiali sono micidiali per favore mi faccia finire dopo interviene dopo interviene per cortesia se no perdo il filo mi scusi mi scusi le privatizzazioni sono la più grande la più micidiale delle invenzioni della finanza contro il popolo e chi privatizza le leggi chi fa le leggi di privatizzazione fa un'operazione altamente negativa dannosa per il popolo per il popolo italiano a questo punto direte dice che dobbiamo fare esisterà un giudice a Berlino la risposta guardate che per fortuna nella costituzione è previsto la partecipazione popolare finché non passa il no perché se passa questa riforma perché l'ultimo di Renzi che viene da un suggerimento dalla J.P. Morgan nella quale ha scritto una lettera aperta nella quale dice che i mercati gradirebbero molto che in Italia non ci fosse il senato e che ci fosse solo una camera perché è molto più facile parlare con un governo solo condizionato da una maggioranza che parlare con due camere immediatamente Renzi ha detto ha fatto la riforma ed è secondo me è vero che lui lascia il governo se non riesce perché se avesse preso questo non lo posso dire con certezza se avesse preso un impegno del genere avrebbe perso la protezione insomma questo è tutto ipotetico però insomma uno viene fatto di pensare in questi termini insomma ci sollecita perlomeno questo pensiero insomma la verità è questa che a livello mondiale è successo quello che è successo il meccanismo che vi ho detto a livello europeo questo pure è importante dirlo a livello europeo la finanza ha preferito non si capisce non so bene per quali motivi forse perché c'è la Bindenberg in Germania ha preferito favorire la Germania la Germania ha avuto un trattamento da parte dei mercati molto di favore e ha avuto un trattamento di favore soprattutto dalla commissione europea la commissione europea non si è accorta che la Germania per cinque anni ha violato i limiti di Maastricht non si è accorta la commissione europea che pure sta tanta attenta con noi che la Germania da tempo immemorabile nasconde il surplus commerciale cioè l'avanzo commerciale che per trattato non può superare il 6% nei tre anni invece sta all'8-9% la Germania tra l'altro ho detto per inciso non ha pagato i danni di guerra perché i danni di guerra erano stati stabiliti 23 miliardi di dollari nel 1953 trattato di Londra ebbe grazie alle pressioni che fecero la possibilità di dilazionarlo in 30 anni dopo 30 anni si voleva fare la rivalutazione del dollaro che si era svalutato ma loro si opposero e il nostro cavaliere fece il grande disse sì va bene non chiediamo niente eccetera così che loro se la sono cavata alla fine se la sono cavata con 96 milioni di euro cioè dire il costo di 20 appartamenti al centro di Roma dopo tutti i danni che hanno fatto della seconda guerra mondiale insomma costoro stanno molto attenti si sono fatti anche una sentenza della propria corte costituzionale la quale dice che il fiscal compact non si applica alla Germania si applica agli altri ma non si applica alla Germania ecco comunque voglio adesso e soprattutto la Germania ci impone l'austerity e ci ha imposto il fiscal compact cioè il pareggio del bilancio che molto solertemente il nostro Monti poteva anche non farlo l'ha messo in costituzione l'ha messo in costituzione creando un parapiglia mai visto perché il pareggio di bilancio è in contraddizione con molti principi costituzionali allora a questo punto vedete che il quadro si comincia a chiarire e si comincia a capire per quale motivo noi siamo andiamo a manifestare contro il trattato transatlantico a favore della cultura e a favore dei soprintendenti delle opere d'arte il 7 maggio perché dietro di questo c'è una manovra di gente spregiudicata che vuole la nostra fine la nostra morte non gli interessa proprio deve devastare tutto il territorio italiano e si è visto con le trivelle date alla total e per delle royalties che arriveranno a 300 milioni di euro quanto si è pagato per fare il referendum e poi al referendum la gente non è andata non ha capito niente cioè i media non hanno detto niente gli italiani non hanno capito niente e non sono andati non sono andati a votare ma è una cosa gravissima perché noi abbiamo regalato parte del territorio nostro a titolo di sovranità del territorio italiano alla total la quale può sfruttare il giacimento quanto vuole e fino a quando vuole capite l'importanza di questa modifica della cosa che era oggetto che era oggetto del referendum stiamoci attenti al referendum del no che non passasse questo perché dico 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 solo questo guardate che la nuova riforma del senato cioè l'abolizione praticamente di una camera tradotta non più in senatori di alto livello per lo meno si deve presumere questo ma in consiglieri regionali e sindaci nominati poi nominati questo fa venire meno quella garanzia che era costituita dall'articolo 138 della costituzione cioè a dire l'articolo 138 della costituzione dice che la nostra costituzione può essere modificata se viene approvata due volte a distanza di tre mesi di ogni delibera dalle due camere ma quando tu ne hai fatta scomparire una e quell'altra peraltro è fittizia perché quell'altra camera o rappresenta solo il 40% degli italiani e quindi comunque la minoranza degli italiani oppure se si va al ballottaggio può anche rappresentare solo il 30% degli italiani il 25% degli italiani ecco con il 25% degli italiani modifichiamo tutta la costituzione e tutti i diritti dei lavoratori i diritti umani tutti i diritti di libertà che possono essere modificati da una posizione politica di un individuo magari quarantenne che non ha esperienze e che pensa di far bene in queste condizioni guardate che la situazione veramente è gravissima siamo chiamati e vi dico e chiudo vi dico che ancora in questo momento oggi la partecipazione popolare costituisce un contropotere noi non abbiamo utilizzato il referendum sulla trivellazione e questo mi addolora enormemente però stiamoci attenti al referendum confermativo quello che sicuramente si dovrà fare per non far passare questa sciagurata modifica costituzionale abbiamo la possibilità di proporre delle leggi di iniziativa popolare hanno alzato il tetto da 50.000 mi pare che devono essere 800.000 insomma ve la dice lunga questo trasferimento di poteri dal popolo verso il governo io ho avuto l'esperienza del governo fascista io sono nato nel 36 ho vissuto la seconda guerra mondiale vi dico che allora quando ero bambino credevo che fosse bene così mi avevano detto così ma poi ho capito che cosa significava dittatura rispetto a democrazia è una cosa terribile la dittatura durante un bombardamento il portiere di casa mia quando esplose una bomba accanto alla casa dove abitavamo noi ci fu uno spostamento d'aria per cui le sedi di Paglia su cui eravamo seduti nella cantina che poi questo è un assurdo si andava nella cantina dove veramente si moriva assolutamente schiacciate dalle pietre uno spostamento d'aria di oltre 10 metri delle sedi tutti con le spalle al muro cose terribili il fischio della bomba sono ancora nell'orecchio avevo 5-6 anni una cosa del genere il nostro portiere disse per corpo questo maometto ma morì sotto il prete sapete il napoletano per colpa di questo maometto dobbiamo morire sotto le pietre siccome c'era sempre dappertutto un vigilante di fabbricato una persona che riferiva al federale ma non era conosciuto da nessuno il giorno dopo il portiere che era molto amato da noi ragazzini perché copriva le nostre baracchelle giocavamo a palle fu mandato al confino di polizia e io l'ho rivisto per fortuna l'ho rivisto dopo la guerra è stato confinato insomma ed era no voglio dire questo esempio vi dimostra che cos'è la dittatura ecco che cos'è la dittatura stiamoci attenti perché la libertà dice Capocrassi è come l'aria se ne capisce l'importanza quanto viene a mancare stiamoci attenti a non perdere la libertà noi possiamo allora sul piano legislativo referendum legge di iniziativa popolare sul piano amministrativo è importantissimo sul piano amministrativo c'è addirittura la legge 241 del 1990 che dice che i portatori di interessi diffusi possono chiedere al responsabile del procedimento chiarimenti e copie dei documenti che intralciano quindi tutte queste opere si possono prendere e poi attenzione si può esercitare l'azione popolare cioè dire i cittadini questo lo dice l'ultimo comma dell'articolo 118 i cittadini singoli e associati possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà quindi se c'è qualcosa che non va i cittadini possono intervenire di solito si fa riferimento all'articolo 9 della legge 200 sul testo unico della legge comunale provinciale ma quello stiamoci attenti perché quella non è una verazione ma quella è solo nell'interesse del cittadino si sostituisce al comune per prendere i redditi che il comune non ha preso ma quella è una forma di aiuto invece la vera disciplina del potere del contropotere dei cittadini sta nell'articolo 118 ultimo comodo della costituzione e la giurisprudenza col caso del porcellum ha dichiarato legittimati dei cittadini come parte del popolo intero per l'abrogazione del porcellum e questo l'hanno detto le sezioni unite della corte di cassazione e la corte costituzionale in più la giurisprudenza amministrativa ha anche ammesso la legittimazione ad agire di comitati purché non siano costituiti ad hoc per un certo fine quindi in sostanza abbiamo la possibilità di reagire e secondo me la cosa importante a proposito di trattato transatlantico è portare alla corte costituzionale la legge di ratifica di questo eventuale trattato perché la corte costituzionale ed ho finito mentre il mio telefonino squilla perché la corte costituzionale ha stabilito da anni il suo proprio potere che si chiama dei controlimiti ma non rispondo dei controlimiti potere dei controlimiti significa che quando una legge un accordo internazionale viola i diritti umani e questo siamo proprio alla lesione dei diritti umani la corte costituzionale può vietare l'ingresso di queste norme nell'ordinamento giuridico italiano questa è una cosa importantissima tenetela a mente si fa benissimo a fare delle manifestazioni ma io non dico che bisogna fare solo le manifestazioni bisogna fare le manifestazioni e poi di conseguenza bisogna agire giudizialmente davanti la via giudiziaria perché tra i giudici può darsi che qualcuno che abbia la testa a posto si trovi cosa che è molto difficile che si trovi tra i politici perché ci stanno dando prova che gli interessa molto più la lobby che non il bene dei cittadini italiani scusate se sono stato lungo ma questi temi secondo me meritavano un chiarimento di ordine generale perché altrimenti diciamo perché per quale motivo e via dicendo grazie 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 grazie